Torino. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, dall'inizio dell'anno, hanno significativamente intensificato l'attività a contrasto del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, con un'attenzione particolare rivolta a un prodotto che, ormai da diversi anni, si sta sempre più diffondendo, la melassa da narghilè. Questa espansione è testimoniata dalla proliferazione di locali dove tale prodotto da fumo viene consumato, quali i cosiddetti sheshboa. Le attività di controllo economico del territorio, svolte dai baschi verdi del gruppo pronto impiego Torino e volte al contrasto della commercializzazione e della somministrazione di tali prodotti in contrabbando, hanno consentito di sequestrare oltre 675 kg di melassa per narghilè, pari a 48.000 euro di accisa e vasa, di trarre in arresto tre soggetti, di denunciare a piede libero all'autorità giudiziaria un ulteriore soggetto, nonché di segnalarne altri sette all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli per altrettante violazioni amministrative, i prodotti di contrabbando sequestrati, privi del contrassegno dei monopoli di stato previsto, come per le sigarette, per tutti i prodotti sottoposti ad accisa, nonché delle indicazioni relative alla nocività per la salute, risultano molto insidiosi in quanto il consumo mediante narghilè viene comunemente percepito come non pericoloso rispetto ad altri prodotti da fumo, al punto da attrarre anche i non fumatori. L'ingente sequestro consegue all'attività di analisi e approfondimento, per finalità di ricerca e repressione delle condotte illecite nello specifico comparto operativo, svolte dai finanzieri del gruppo pronto impiego in ordine alle principali modalità per rifornire di melassa ad anarghile le aree urbane della città metropolitana di Torino. All'esito delle attività i soggetti arrestati in flagranza di reato e quello denunciato a piede libero dovranno rispondere del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Ciò ferma restando la presunzione di innocenza dei predetti fino a compiuto accertamento delle relative responsabilità. L'attività svolta conferma ulteriormente il costante impegno assicurato dalla Guardia di finanza nel contrasto del fenomeno del contrabbando, a tutela sia delle entrate erariali, sia della salute dei consumatori.